Finalmente sono arrivate le Nike Dunk Low USB in collaborazione con il cartone animato le superchicche Ho chiamato anche all'estero Powerpuff Girl Sono state rilasciate tre colorazioni e adesso andremo a vederle nel dettaglio Parleremo della modalità di drop perché è qualcosa che succede molto raramente E specialmente ti spiegherò come sono riuscito a comprarle Ovviamente al prezzo di 130 euro e quindi al prezzo di retail Purtroppo devo dire che non ho la colorazione Blossom Ovvero quella rosa però ma tra un motivo e per l'altro Nel trasferimento anche da Milano in Veneto e tutto quanto Non sono riuscito a portarvela Ragazzi con calma questa volta è andata così Eh ragazzi mi dispiace è andata così Rimedierò la prossima volta Forse con... Fatemi sapere nei commenti se volete Chi ha visto ha visto se volete il video domani Quindi basta se volete il video domani Come detto prima Nike Dunk Low in collaborazione con Powerpuff Girl Uscite venerdì 15 dicembre La collaborazione ha portato alla creazione di tre colorazioni Scusate un po' il gioco di parole Abbiamo la Blossom che sarebbe quella rosa La Bubble che sarebbe quella blu E poi anche la Buttercup ovvero quella verde Una cosa molto interessante da dire è che Vabbè oltre ai dettagli di questa collab Che sarebbe stata per il 25esimo anniversario del cartone animato Abbiamo delle chicche molto molto interessanti Ed abbinando al fatto che è stata sviluppata dalla parte di Nike Però nella versione SB e voi sapete quanto a me piace questa situazione Rimanete attenti perché vi stupirò di certo Partiamo un po' dai prezzi di retail e anche i prezzi di resell Abbiamo un retail comune per tutte e tre le colorway di 130 euro Ed attualmente la Blossom che sarebbe la versione rosa Sta intorno ai 250-300 euro La Bubble intorno ai 250 E la Buttercup intorno ai 200 Un'altra parte interessantissima è il fatto che Ogni scarpa ha dei materiali diversi l'una dall'altra Ad esempio partendo sempre dalla rosa Troviamo del suede e quindi una pelle scamosciata Per poi passare alla Bubble in questa specie di Snake Skin E poi alla Buttercup con questo materiale satinato Super interessante Ci sta ovviamente variare i materiali A mio parere la trovo un'ottima idea Specialmente quando si rilasciano più scarpe Oltre a differenziare il colore Anche i materiali è stata tantissima roba Ma com'è venuto il lancio proprio in sé Parlando in termini strettamente di cosa cavolo è successo Venerdì 15 dicembre Allora la mattina abbiamo avuto dalle 9 Il lancio annunciato ovviamente delle Nike Kobe Le Reverse Grinch Però anche questo non è stato super scontato Dal momento che le hanno rilasciate tramite l'applicazione Nike normale E quindi moltissime persone se le aspettavano su Sneakers Io in primis Però comunque abbiamo avvisato tutti i ragazzi in community E quindi se sei dentro Le hai puntate al 100% Ovviamente per entrare nella mia community privata Ti basta cliccare il link in descrizione O nella scheda in alto a destra E per queste invece abbiamo avuto Una modalità di lancio insolita Comunque perché è stato fatto uno Sneakers Scratch Allora per chi non conoscesse come funziona questa modalità In poche parole noi dovremo grattare un'immagine Per poi ricevere questo accesso esclusivo E quindi poter comprare le scarpe Un altro particolare Che sono super contento dei ragazzi in community È che prima di quel lancio Abbiamo mandato tutti gli orari precisi In cui sarebbero uscite Lo stock ovviamente perché per la rosa è stato di 4000 5000 per questa e 6000 per la verde Ed oltre a quello anche tutti i tutorial e le guide del caso Quindi sono stati tutti preparati a dovere Ovviamente nessuno ha risparmiato critiche Per il funzionamento Durante il momento del lancio Dell'applicazione Sneakers di Nike Avendo tantissima gente I server hanno dato qualche problema E a moltissimi anche dopo averla grattata Non ha sbloccato la modalità di checkout Ad esempio anche a me non l'ha sbloccato alla prima Però poi sono riuscito a coppare le bubble E anche le buttercup La cosa interessantissima è che lo stock per questo lancio È stato assolutamente immenso Troviamo circa 15.000 paia Rilasciato è solo qua in Europa E per un lancio di SB è qualcosa di pazzesco L'hype è molto molto buono Posterò nella mia community privata La mia strategia di investimento E quindi soldarle o venderle Escludendo la colorazione rosa Che ahimè appunto Non ho Con questo materiale in suede Quindi nella classica pelle scamusciata Partendo dalle bubble Il dettaglio che sicuramente spicca di più E anche ricorrente in tutte le scarpe È appunto questo occhio nel back Sempre interessante anche Escludendo il classico box normale Con la taglia Nella scritta Nike SB Che è stato cambiato dal corso di quest'anno Mi sembra Già partendo dalla carta Abbiamo ovviamente i tre main character Quindi le tre superkick Appunto che danno l'ispirazione A questa colorazione E questi sono i dettagli Che veramente mi fanno apprezzare Molto di più una scarpa Avrei preferito comunque Per quanto riguarda anche la scatola Avere un box Tra virgolette custom Comunque che si differenzi Un minimo Da tutto il resto Ma così me lo sarei aspettato Anche delle Supreme Vabbè è andata così I signori di Nike Difficilmente fanno i box custom Però l'hanno fatto per le AJ Che io In collaborazione con Union Cavolo Fatemelo almeno Di un altro colore O piuttosto che Qualche idea Io vorrei metterla qua dietro Però io so Che poi la fotocamera Mi sfuoca Lo so Che poi dovrei registrare Tutto quanto E quindi Non lo farò In questo caso Troviamo solo Un laccio extra Nella colorazione Nera A molti può piacere di più Rispetto alla gialla Ci sta Tra virgolette Perché ricorda Lo swoosh Ecco A me piace abbinare Comunque i lacci Alla colorazione Della linguetta E in questa linguetta Notiamo tantissimi dettagli Molto 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 interessanti Oltre alla scritta Di Nike Asby Nell'etichetta Cucita Nella linguetta Abbiamo anche Proprio il logo Di Powerpuff Girl All'interno Invece Della Bubble L'emoji Del sugar Nella Bubble Le spezie E della rosa Non lo so Non me lo ricordo Oltre a questo Suola Classica Tra virgolette Classica Comunque Traslucida Di entrambe Però non raffigura Nulla All'interno Sarebbe stato Ecco interessante Che se ci fosse stata Una roba Come per le April O anche per le Chris Paul Piuttosto che Per le Born and Race Comunque la scritta Born Con lo svusce di Nike E la dicitura SB Forse La chicca più interessante Sono le solette Le solette come in praticamente Tutte le SB Sono bellissime C'è poco da fare Un dettaglio che da fuori Non si vede troppo Però comunque Rendono la scarpa completa Ad esempio Per le Creenshow Skate Club Ne dava Un paio extra Di solette Ed eccole qua Queste sono entrambe Abbiamo raffigurato Mojo Jojo Che sarebbe un po' Il Villain Se così vogliamo chiamarlo Del cartone animato E poi in questa Classico Design Da cartone animato Da fumetti Degli anni 80 La scritta Nike SB Che però ritroviamo un po' Anche quassù Attenzione perché Dietro Abbiamo La Tra virgolette Boccia di vetro Che si è rotta Che ha fatto inserire Dentro Appunto allo spot Pubblicitario Quindi dentro La pozione Che stava creando Un personaggio Del cartone La scritta Nike SB E quindi Per questo Un po' Loro l'hanno voluta Strutturare Come se Questa boccetta Di Nike SB Si è rotta È andata dentro Alla pozione Che stava creando E quindi Sono venute fuori Queste scarpe Il back È davvero Interessantissimo Con questi occhi Tantissima roba Invece il materiale All'interno È della classica pelle Morbida Però è della classica pelle Passiamo anche Alle verdi In questo caso Troviamo La colorazione Green E black Con il paio Di lazzi extra verdi Che appunto Tornando al discorso Di prima A me piace fare L'abbinamento Con lo stesso colore Della linguetta Quindi la trovo Tantissima roba Anche in questo caso Nel back Troviamo L'occhio Del personaggio Sempre Nelle solette Mojo Jojo E la destra Che è comunque Ricorrente Ed esattamente Uguale a Quella Dell'altra scarpa Però molto interessante Questa che comunque Dà un tocco Di freschezza Comunque diverso E quindi potete vedere Che questa appunto È delle verdi E questa è delle blu Materiale satinato Alla fine Nulla di troppo Speciale Però molto 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 Bello Detto questo ragazzi Io purtroppo Non ho anche La colorazione Rosa Mi dispiace Se la volete In massa Fatemelo sapere Nei commenti Che ve la porto Ma alla fine Bene o male Il design della scarpa È sempre uguale Cambierebbe solo Il fatto Comunque Della colorazione E dei materiali Che la compongono Io vi ringrazio Per aver visto Questo video Fino alla fine Vi chiedo come al solito Di lasciarmi un like Iscrivervi al canale E di attivare La campanellina Delle notifiche Per non perdervi Il video Di domani Su La scarpa Che vi ho fatto vedere Prima Se volete iniziare A guadagnare Da resell Ovviamente Entrate nella mia community Perché quando ci sono Questi lanci La qualità Delle informazioni Cambia assolutamente Tutto Proprio perché Provate solo ad immaginarvi Che noi ore prima Abbiamo detto Come sarà la modalità Di lancio Quando avverrà Proprio in che esatto Minuto E di conseguenza Potete ben capire Quanto sia importante Essere in una community Come quella Che abbiamo creato noi Signori Buona giornata a tutti E di conseguenza